Musica Cari amici ben ritrovati per condividere in famiglia il pane della domenica Oggi ci soffermeremo sul brano evangelico di Giovanni al capitolo decimo versetti 11-18 L'immagine del buon pastore è senz'altro la più conosciuta la più amata dai cristiani Eppure un'immagine così romantica provocherà la reazione delle autorità religiose giudei che cercheranno di lapidarlo Perché? Perché Gesù afferma di essere non il buon pastore ma letteralmente nel originale greco il bel pastore Infatti la parola greca è kalos che vuol dire bello Quindi come dire il pastore eccellente quello atteso una persona pienamente riuscita La bellezza vedete è l'emalazione dell'essere Invece la bontà è più dell'ambito del fare Quindi l'espressione io sono il bel pastore ha provocato diciamo il malcontento dell'autorità religiose di Gerusalemme Cari amici ascoltiamo ora attentamente è la parola di Gesù che è sempre pane per la nostra vita Alleluia 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 Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse Io sono il buon pastore Il buon pastore dà la propria vita per le pecore Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono vede venire il lupo abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde perché è un mercenario e non gli importa delle pecore Io sono il buon pastore conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me così come il padre conosce me e io conosco il padre e do la mia vita per le pecore e ho altre pecore e ho altre pecore che non provengono da questo recinto anche quelle io devo guidare ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge un solo pastore per questo il padre mi ama perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo nessuno me la toglie io la do da me stesso ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo questo è il comando che ho ricevuto dal padre mio Prima dell'immagine del buon pastore viene descritta l'immagine della porta al capitolo decimo versetti 1-10 quindi il brano di oggi ci presenta solo la seconda immagine ma vanno per insieme Dio viene sperimentato così come il bel pastore e come una porta quindi il Vangelo invita anche noi ad essere porte e ad essere pastori e questo diciamo l'insegnamento che ci deriva dal brano evangelico di oggi ognuno di noi ogni discepolo di Gesù deve essere una porta aperta e un pastore la porta perché la porta? la porta non si muove la porta rimane puoi entrarci o ritar fuori puoi ritornare entrarci oppure se vuoi rimanere fuori quando poi ne hai bisogno ritorni e la porta ti protegge sempre la puoi chiudere o tenere aperta è sempre lì molto bella questa immagine amici noi abbiamo bisogno di trovare persone porte ci siamo vintesi bene persone porte persone cioè che ci siano dalle quali sappiamo che saremo accolti amati ascoltati al di là di ciò che facciamo o siamo persone verso le quali sappiamo di poter sempre ritornare Gesù è la porta da lui si può sempre ritornare ricordiamolo non ci lascerà mai fuori e il Vangelo si invita poi ad essere pastori cioè prendersi cura significa avere cura di se stessi avere pazienza con sé sapere anche aspettare e non essere duri con sé stessi e fare tutto questo con gli altri tutto ciò che vive amici ha bisogno di cura di amore di protezione di dedizione ogni giorno ecco a cosa siamo chiamati allora ad essere porte e pastori delle persone dei mariti delle mogli dei figli degli amici e via dicendo i primi cristiani vedevano nel Signore la porta ecco il loro punto di riferimento e il pastore che si prendeva cura di loro in fondo noi e questo dobbiamo ricordarlo perché il discorso della porta del pastore può essere equivocato attribuirlo solo ad alcuni in fondo tutti noi siamo pastori tutti tutti abbiamo un qualche ruolo di responsabilità per esempio il parco guida i suoi fedeli il genitore guida i suoi figli il dirigente d'azienda guida i suoi dipendenti il docente guida i suoi alunni essere allora bel pastore bel pastore significa porre attenzione alle persone non mai umiliare non esigere di sapere sempre tutto poi non vomitare addosso agli altri i nostri sbalzi d'umore la fiducia si merita non è un diritto essere bel pastore significa credere nelle proprie pecole valorizzarle credere cioè che in ogni persona ricordiamolo sempre c'è una scintilla di Dio forse questo lo dimentichiamo spesso essere bel pastore significa essere liberi se c'è da dire un no o da riprendere una pecora il bel pastore lo fa perché non teme di deludere essere bel pastore quindi significa guidare Gesù si presenta come il bel pastore che conosce le sue pecore le conosce personalmente il nostro nome sta scritto nel suo cuore per Dio ecco che qui dobbiamo tenerlo presente per Dio siamo tutti figli unici anche se siamo in tanti non ci amiamo in maniera indistinta sa tutto di noi tutto le gioie le fatiche i sogni i limiti e il Signore è capace di adeguare il suo passo ai nostri ritmi ma sa anche sì essere esigente quando la nostra vigrezia lo richiedono Gesù è l'unico l'unico che ci conosce veramente gli altri no sì ci conosceranno un po' ma Gesù è l'unico che ci conosce veramente e per questo può amare di noi quello che gli altri o noi stessi non riusciamo ad amare vedete cosa vuol dire essere bel pastore e Gesù lo è e invita tutti noi ad esserlo per i nostri fratelli ora è giunto il momento di farci una domanda franca e onesta chi è il pastore della nostra vita e dove la conduce amici a chi andiamo dietro di chi siamo alla ricerca verso chi sono puntati i nostri passi a chi affidiamo la nostra vita diamo un nome ai modelli agli ideali che ispirano le nostre scelte così vertichiamo il nostro fammino di fede un'avvertenza non cadiamo nel tranello di supporre che se usciamo dei delinquenti per esempio non rubo non uccido adesso sono tutti in pace possiamo stare con la coscienza tranquilla tanti dicono io ho mai ammazzato nessuno non l'ho mai rubato quindi sono opposto non puoi avere la coscienza tranquilla solo per questo noi siamo maestri quando dobbiamo raccontarci delle bugie per giustificarci la logica del bel pastore in fondo è la logica dell'amore del mi importa a Dio a Dio l'uomo interessa per lui è importante a Dio importa di me della mia vita sono importante per lui anzi per il Signore l'uomo è più importante pensare di se stesso per questo dà la sua vita a ciascuno ripete ho a cuore i pastieri del cielo ma voi valete molto molto di più ho a cuore i giri del campo ma voi valete molto di più amici la qualità dell'amore di qualcuno la capiamo quando le cose girano nel verso sbagliato e dobbiamo fare attenzione a questo i veri amici lo abbiamo sperimentato un po' tutti i veri amici sono quelli che non se ne sono andati quando abbiamo sbagliato quando non eravamo più utili quando è finita la salute i lupi per esempio aiutano sempre a capire chi si ama davvero le esperienze negative non sono utili non fosse altro perché ci aiutano a far emergere la qualità delle nostre relazioni allora conviene seguire lui perché siamo certi che lui non chiederà mai nulla in cambio perché siamo mati di un amore che ci dà il permesso di rimanere noi stessi e il bel pastore offre la vita per questo e poi una bella notizia con Gesù sono finiti per così dire gli ovili i recinti e purtroppo in passato la traduzione sbagliata e diventerà un solo ovile un solo pastore ha prodotto guerre di religione perché tutti entrassero nell'unico ovile oggi oggi abbiamo una chiara coscienza rispetto al passato che Dio non fa preferenza di persone e l'amore non può essere rinchiuso in un recinto un solo ovile sotto un solo pastore gli amati vedete non si identificano con una parte dinanzi a Dio questa è l'idea da metterci in testa dinanzi a Dio non ci sono migliori o peggiori preferiti oreietti io vorrei scommettere se qualcuno diciamo normalmente pensa così invece sono troppo facili a dividere tra buoni e cattivi noi nessuno è buono o è cattivo completamente da una parte o dall'altra nessuna salvezza riservata ai cristiani dentro la chiesa cattolica dunque con buona pace dell'antico adagio extra ecclesiam nulla salus fuori della chiesa non c'è salvezza oggi è lo dice il catechismo della chiesa cattolica al numero 847 quindi una mia invenzione afferma quelli che attenti eh quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua chiesa e tuttavia cercano sinceramente Dio e sotto l'influsso della grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di Dio conosciuto attraverso il dettame della coscienza possono conseguire la salvezza eterna concilio comunico Vaticano II lumen gentium capitolo 14 vedete amici importante questo Gesù è venuto a liberare l'uomo da tutti i recinti da tutte le leggi e tutte le proibizioni perché Dio è l'amore che apre a Pasqua gli sconfinati l'intera umanità al di là dei recinti di credo o di appartenenza non è che a questo punto bisogna dire allora non cerchiamo la via vera la via giusta no però Gesù è venuto a spezzare le stazionate che separano comprese quelle della morale e dell'integrità è vero Gesù è la porta ma proprio per questo nel mondo di Dio le porte sono state tutte scardinate Dio amici chiama all'unità che è è l'esatto opposto della uniformità unità è una cosa l'uniformità è un'altra cosa perché l'amore esalta le differenze la bene la belle notizia di questa domenica allora qual è a Dio importa di me anche quando anche quando non capisco anche quando sono turbato per il suo silenzio perché il bel pastore non può stare bene finché non sta bene ogni suo pecora e quindi ogni suo figlio amici la domenica del buon pastore che oggi appunto celebriamo ogni quarta domenica di Pasqua ci invita a pregare per le vocazioni perché ognuno possa mostrare il riferimento a lui quando dico vocazioni non intendo vocazioni sacerdotali o religiose ma vocazioni in genere quando si parla dell'aspetto vocazionale si pensa subito a quella di speciale consagrazione la vocazione è invece di tutto il popolo di Dio afferma Congar nella chiesa c'è il corpo dei pastori istituiti che hanno l'ordinazione cioè ricevono il sacramento dell'ordine quindi l'incarico quindi la grazia del magistero la giurisdizione spirituale ma bisogna evitare di separare pur nella distinzione l'azione dei laici e il ministero profetico dell'insegnamento non solo perché l'azione dei laici viene in una certa misura guidata da questo ministero ma anche perché essa la provoca qualche volta lo ispira e gli fa capire i segni dei tempi su questi diciamo argomenti Papa Francesco veramente ci illumina in ogni sua catechesi questa allora sia la giornata in cui ognuno cresca nella consapevolezza di come vivere la risposta generosa al bel pastore cari amici buona domenica di Pasqua siamo ancora nel tempo pasquale e ogni giorno fino a Pentecoste anche liturgicamente possiamo considerarci di esterno a Pasqua ciao ciao a Pasqua miele dalla roccia lucisanzi o Signore e bamba di solvenza e il tuo sangue per noi Il tuo corpo ci doni, Signore, e per noi il pane divino. Il tuo corpo ci doni, Signore, e per noi il pane divino.